Siamo qui a Le Bourget e abbiamo accompagnato insieme alla regione Piemonte, il CEI per il distretto aerospaziale, 17 aziende del nostro territorio in questa grande fila dell'Europa. Una grande opportunità per le nostre piccole e piccolissime imprese che cerchiamo di aiutarle a sfruttare al meglio. Con contatti, iniziative, oggi avremo anche un seminario di presentazione del nostro distretto e quindi è davvero un'occasione per presentare al mondo il Piemonte dell'aerospazio. La seconda occasione sarà a novembre, fine novembre, con gli ADM, l'Aerospace Defense Meeting, che sempre con questa compagine organizzeremo all'inguoto. È l'unica fiera dell'aerospazio italiana che è molto centrata sul fare vita e incontrare potenziali clienti e fornitori. E quindi vi aspettiamo fine novembre, agosto. Grazie.